Wella ragazzi, ciao a tutti e bentornati sul canale, rieccoci qui oggi con Subnautica, riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Allora ragazzi, se vi ricordate bene, nell'ultimo episodio stavamo creando quantomeno lo scudo protettivo per il Ciclopis, visto che è considerato che io non ce l'ho ancora, e dovevamo installarlo sul razzo Neptium se ce ne vogliamo andare via da questo postaccio. E se vi ricordate bene, il razzo Neptium, eccolo lì, ed eccolo qua. Allora ragazzi, vediamo un attimino se ci ricordiamo più o meno qualche cosa, perché per cercare di costruire la parte superiore, come detto, abbiamo bisogno del generatore scudo del Ciclopis, che il Ciclopis si trova a 2055 metri di profondità. Allora, adesso, se vogliamo fare le cose come Locatelli, vediamo un attimino di che cosa abbiamo bisogno per cercare quantomeno di sbloccare questo cavolo di scudo del Ciclopis. Vediamo un attimino di quello che abbiamo bisogno, perché, dove cavolo sto? Ecco qui. Perché sicuramente abbiamo bisogno di qualche altro tipo di materiale, che naturalmente ragazzi qui non posso fare. Adesso, vediamo un attimino, abbiamo l'enzima per la schiusa, che possiamo anche andare a metterlo, perché io già me lo sono craftato off camera. Ho fatto anche la polianilina, mentre invece per lo scudo abbiamo bisogno di, aspettate un attimo, per lo scudo del Ciclopis, rinforzo scafo, aspetta un attimo, dove, 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 che l'ho perso. Eccolo qua, no, aspettate, eccolo qui, cavetteria avanzata, la cavetteria avanzata si faceva con cavetteria, quindi abbiamo bisogno di argento. Allora, facciamo così, ritorniamo di nuovo su, dove, che era, ecco qui, argento, argento, eccolo qui, uno e due. Scendiamo di sotto, ecco qui, dammi questa, e per farci la cavetteria avanzata abbiamo bisogno soltanto di oro, che l'oro, eccolo qui, a posto, scendi, vai qui, vai qui, e fammi la cavetteria avanzata. Vediamo un attimino, vediamo un attimino, abbiamo tutto, se non vado errato, generatore, cella di energia anche, perfetto, però per farmi questo qui, eh, adesso abbiamo bisogno di un altro microprocessore, che l'altro microprocessore si fa con rame, oro, eccetera. Dunque, rame, oro, questo, oro, rame, aspetta un attimo, dov'è il rame? Mi sa che dovrebbe essere qui sotto, allora queste qui mi servono. Dove cavolo sta il rame? Maledizione, ho perso il rame, ragazzi, ho perso completamente il rame, possibile, mi sa proprio di sì, ragazzi, ho perso il rame, eccolo qui. Mannaccia a te, mannaccia che parla pure te. E vediamo un attimino di fare quest'altro. Facciamo il filo di rame e di conseguenza possiamo fare l'altro microprocessore, che come detto ci servirà per questo, mentre per generatore scudo del ciclope ci abbiamo bisogno di cella di energia, ma non è un problema perché ce l'abbiamo direttamente sul ciclopis. Vediamo un attimino, andiamo di qua, ragazzi, andiamo a prendere il portalo, che ci porta direttamente fin là sotto, dove per l'appunto ci sta il ciclopis, almeno così ci togliamo anche una cosa di mezzo. E cerchiamo quantomeno anche di finire il razzo neptium, mettiamo l'enzima per la schiusa e siamo pronti per partire. Finalmente, spiro, spiro. Ed eccoci, oddio santo, con quella cavolo di mano mi ha fatto spaventare ciccio. Vediamo un attimino, lui si trova lì, noi dobbiamo andare di qui. Non si preoccupi signora, tra un po' vengo a mettere l'enzima per la schiusa, vada tranquilla, vada tranquilla. Si fidi, si fidi, si fidi del sottoscritto, e sì, dobbiamo andare a creare stocco, aspetta, mannaccia. E dai, sì, vabbè, a posto. Da dove c'era l'entrata, l'entrata, eccola qui, a posto. Ed eccoci qui, vediamo un attimino, aspetta, cerchiamo di ritornare dal nostro caro Ermene Gildo. Eccoci qui, aiaiaiaiaiaiaiaiaiaia, a posto. Dunque, vediamo un attimino, per fare questo generatore scudo, la cella di energia a posto, la tolgo di qui. Ok, cacchio, ne è rimasta soltanto una al 34%, vabbè, non fa niente. Metto questa. Se non vado errato, mi sa che a lui va bene, anche quella lì da zero, insomma, quella lì scarica anche gli va bene. Ok, a posto. E possiamo ritornare indietro, finalmente, a finire di costruire il razzo Neptune a posto. Damose, damose, damose via di qua. Ole. Ed eccoci qua, oppela, a posto. Scusi, signora, eh, tra un pochino arrivo, e tra un pochino arrivo, non si preoccupi, lei. Ecco, sti cavolo di tentacoli entai qui, eh. Vabbè, comunque. Eh, sì, 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 non si preoccupi, eh, tra un po' arrivo, vado a finire di costruire la mia salvezza. O meglio, la mia polizza sulla vita. Se così vogliamo definirla, ma vabbè, comunque, ci siamo capiti. Damose. Ed eccoci qua. Vediamo un attimino. Do sta la base? Eccola qui. Eh, mi sa che dovrei avere tutto per il razzo Neptune. Adesso non mi ricordo. Vabbè, comunque, possiamo vedere un attimino anche di procedere e di andare avanti. Perché se non vado errato, mi sa che c'ho tutto. Vediamo, eh, vediamo. Vediamo se tutto è ok. Che se no, altrimenti, vediamo un attimino anche come fare. Ed eccoci qua. Dov'è che era? Dov'è che era? Eccolo qui. Razzo Neptune, ti stiamo per concludere. Eccolo qui. Ah, a posto. Finalmente, ragazzi, abbiamo il razzo Neptune che ci salverà completamente la vita. Se vogliamo dirla così, insomma, ragazzi, ci salverà la vita a tutti. E tra un po', ragazzi, scenderemo di sotto. Andremo a mettere l'enzima per la schiusa delle uova. Faremo uscire, naturalmente, i piccoli dell'imperatrice marina. E poi, dopo, prenderemo l'enzima. E ce ne andremo da questo cavolo di pianeta che già non lo sopporto più. Ma non vi preoccupate perché ritorneremo di nuovo qui con Subnautica. Sì, perché se vi ricordate bene, avevo detto che volevo far affondare il Ciclopis. Vediamo, eh, vediamo. Vediamo se è cosa fattibile o meno. Comunque, damo se... Riportami su, biondo. È a posto così. Vediamo... Oh, santo di Dio, finalmente possiamo entrarci. Guarda qua. Perché abbiamo lo stoccaggio? Ah, vabbè, dai. Ti metto questo e ti metto questo, dai. Due batterie. A posto. Questa qui forse magari me la porto. Qui, invece... Ma possiamo anche costruire? No, non possiamo costruire. Abbiamo sistema di comunicazione. Sistemi idraulici. Esci dal razzo. Unità di energia ausiliaria. Sistemi di comunicazione. Idraulici. Qua, invece, che cos'è che abbiamo? Guarda qua, che figata. Abbiamo avvia la CPU primaria. Capsula del tempo, naturalmente. E sistema di supporto vitale. Ok. Guarda qua, che figata. No, vabbè, ragazzi. Per adesso scendiamo. Perché, come detto, vorrei finire, quantomeno, questa cosa. Sperando che sia la strada giusta prima che casco di... Aio. Prima che casco di sotto e faccio una brutta fine. Ok. Damose. Dunque, andiamo dalla signorina. Dov'era il... Eccolo qui. Andiamo dalla signorina e andiamo a mettere l'enzima per la schiosa. Ed ecco qui. A posto. Voilà. Dunque, vediamo un attimino. Salve, signora. Sono ritornato con l'enzima. Va tutto bene. Va tutto bene. Qui. E... Weyla. Tutto... Oh, guarda qua, che figata. Aspetta, aspetta, aspetta. Giovane imperatore marino. Ebbè, guarda, tanto giovane, sì. Guardali qua, che figata. No, vabbè. Quanti cavolo ne sono? Uno, due. Ehm... Uno, due, tre. Quattro, cinque. Sì, ne sono cinque. Guarda qua. Scusate, voglio anche io un po' di coccole. È possibile? Guarda, sto cavolo di squalo osseo. Guarda come si stanno a fare le coccole loro. Guarda che figata. No, vabbè. Ah, signora, scusi. Dica. Mi dovrebbe dare... Oh, no. Aspetta, ma sta morendo? E questo l'avevo capito. Ma allora sta morendo? Ma no, ma così? Con quanta disgrazia? Ma no, ma come addio, amico mio? Ma scusi, ma signora, ma lì non mi doveva dare l'enzima? O meglio, non mi doveva dare... Eh, sì, infatti. L'enzima 42, o meglio, la cura? Scusi? Signora? Dica. Eh, che faccio io adesso? Aspetta che c'ho poco ossigeno, c'ho poco ossigeno. Andiamo a recuperare l'ossigeno, aspetta. Mi metto qui. Eh, sì, ragazzi, lei pian pianino sta... Sta morendo. Eccala. Modo vivi a rompere le perotas. Aspetta un attimo. Eh, sì, ragazzi, lei sta morendo pian pianino. Ma sto enzima, scusi. Ah, aspetta. E questo? Che roba è? Tocca l'enzima 42 concentrato. Finalmente, ragazzi, abbiamo la cura. Non mi dire che abbiamo la cura. Ci siamo curati? Ragazzi, ci siamo curati. Cioè, voglio dire, no? È venuto qui qualcuno prima di noi e non ce l'ha fatta. Siamo arrivati noi e abbiamo ottenuto la cura. Normale. Ehi, che bello. Ce ne possiamo andare. Via, dammose. Via, 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 via. Ce ne possiamo andare, ce ne possiamo andare. Però adesso, naturalmente, credo che dovremmo anche disattivare il cannoncione. Se no, altrimenti non credo proprio che ce ne possiamo andare. Aspetta. Oh, santo Dio, con quella cavolo di mano. Aspetta. Ed eccoli qua, loro che stanno rilasciando, naturalmente, l'enzima 42 in giro. Vomitano palline, come se non ci fosse un domani. Però, mi raccomando, state attenti al signor Levietano, se no, me li ammazza tutti. E da quello che ho capito, questi qui, o meglio, i figli dell'imperatrice Marina, li dovremmo trovare anche all'interno di Subnautica Below Zero. Che credo che comunque sia, loro continueranno a rilasciare l'enzima, eh. Adesso non vorrei dire, ma secondo me dovrebbero rilasciare quantomeno sempre l'enzima. Ora, non ne sono tanto sicuro, però, vabbè. Comunque, andiamo a vedere di disattivare sto benedettissimo cannoncione, sempre se sia qui. Non mi ricordo se è qui. Mi sa di sì, però, eh. Mi sa che dovrebbe essere da queste parti il disattivamento del cannoncione. Mi sa di sì. Eh sì, infatti, eccolo qui. Mi faccio ripalpare di nuovo. Vediamo. Che cosa potrebbe mai succedere? Scusi, dica. Eccomi qui. Aspetta. Oh, santo Dio. No, no. Eh no. Eh no. Eh, eh, eh no. Ahio, maledetto. Bravo. Lo prendi a pugni, non è che sia la migliore delle idee. E abbiamo disattivato il cannoncione, ragazzi. Abbiamo disattivato il cannoncione. Finalmente, ragazzi, mi sa che ce ne possiamo andare via da questo posto. Oh, santo Dio, ti ringrazio. Sì, infatti, lui sta cadendo. Sto sentendo il rumore che sta cadendo. Sta cadendo il cannoncione. Aspetta. Oh, per la piano. Ahio. Damose. Damose via di qua. Damose via. Via, 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 via. Via di qua. No, aspetta, il portalo. Non volevo il portalo, maledetto. Volevo uscire di qui. Perché voglio andare un attimino anche a bere. A bere un po' d'acqua. Aspetta, eh. Opera. Damose. Sì, come detto, ragazzi, poi dopo, magari, nel prossimo episodio, ci facciamo... Sì, ho capito. Ci facciamo affondare il... Il sottomarino. Ma per il momento, ragazzi, andiamo a bere perché... Non ho più acqua. Sì, forse magari potrebbe durare veramente così tanto poco questo episodio, ragazzi. Però, come detto, vi sei considerato che... Grazie. Vi sei considerato che è la fine di tutto. Tanto, come detto, ragazzi, ci ritorneremo. Comunque ci ritorneremo. Acqua. Mi serve acqua. Ecco qui. Perfetto. Ottimo. Vediamo un attimino anche di papparci un po' di pesciolini. Magari. Veste considerato che ci siamo, magari. Anche un, due pesciotti. Ce li mangiamo. E credo che anche i warper adesso non ci dovrebbero dare più fastidio. Quanto meno. Vabbè. Comunque. Vediamo. Vedremo. Petty. Scusi. 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 A posto. Perfetto. Mangia. Abbiamo mangiato. Aspetta, perché questo qui sta scivolando di sotto? Ma... Ah, l'ho colpito io? Ah, vabbè. Comunque. Meglio che niente. Ok, ragazzi. Ok. Allora, io direi quasi quasi di lasciare questo cavolissimo... Questo pianeta del cavolo. Del cavolo. E sì, ragazzi. Ce ne possiamo andare via di qui. Finalmente. Ecco qui. Sì, forse magari, ragazzi, l'episodio durerà veramente così pochissimo, però... Eh, come detto, ragazzi, è la fine, quindi non è che ci posso fare più di... Più di tanto. No, dove cavolo vai? Aspetta, voglio cambiare... Voglio cambiare nome. Lo chiameremo A Aldo con base color rosso, striscia nera, striscia nera. Nera e nome bianco a posto. Scusi? Mi facci vedere? Ah, Aldo è pronto per la partenza. Damose. Donde sta la... L'ascensore? Eccola qui. Ehm... Sì, ragazzi, sì. Via. Damose. Damose il più veloce possibile da sto posto, perché già non ne posso più. Scusi, eh. Damose. Damose. Oh, adesso. Scusi, aspetti un attimo. Eccoci qui. Vediamo un attimino, vediamo un attimino. Visto è considerato che ho messo da parte un pochettino di roba. Vediamo, iniziamo. Questa tira la leva, ye ye. Che bella voce che c'è, signorina. Sistemi idraulici, a posto. Ok, prima fatemi salvare la partita, perché come detto, ragazzi, posso sempre ritornare indietro, eccetera, eccetera. Magari durante il viaggio non vado a salvarmi la partita. E almeno così possiamo rientrare di nuovo su Subnautica e cercare quantomeno di far affondare il sottomarino. Vediamo, dunque. CPU primaria, sì certo, premo un po' di tasti a caso. Premere un po' di tasti a caso fa bene. Ok, no no, ci sta, ci sta. Vediamo un attimino, vediamo un attimino. Possiamo mettere un'immagine. Qui possiamo mettere tre cose. Guarda, ti lascio. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Indietro, immagine. F11 per catturare uno screenshot. Aspetto un attimo, perché facciamo una bella cosa, ragazzi. Facciamo una bella cosa. Tanto ci siamo. Scusi? Ah, cavolo. Ci sta. Eh, vabbè. A posto. Ho fatto lo screenshot. Bene. Damos. E vediamo di inserire anche questa foto. Ora vi faccio vedere un attimino che tipo di foto ho fatto. Eh, perché purtroppo l'aurora era un attimino un po' troppo dietro alla roccia. Immagine. Ah, eccola qui. Condividi, seleziona, messaggio. Che cosa scriviamo agli altri giocatori di Subnautica? Andrà tutto male. Proteggetevi il chiorlo da tutti. Bene. Per me può andare bene così. Vediamo un attimino. Avvia i sistemi qui. Sempre tasti a caso. Sempre tasti a caso. C'è altro da... A posto. Posso lanciare io il razzo? Scusate. Posso? Tasti a caso. Tasti a caso. Eh, sì. Eh, scusate ragazzi. Non vorrei dire, ma non mi fate la cacca. Sul vetro, che l'ho appena pulito. Dai, su, è appena venuta la signora delle pulizie. E finalmente ragazzi, stiamo per lasciare il pianeta. Finalmente. Ok, ok. La capsula è stata sganciata. Ottimo così, ottimo così. Non ci posso credere, ragazzi. Ah, ecco che cosa ci serviva lo scudo. Eh no, eh no. Anche qui ci stanno i cavolo dei triti. Ok. Però, come detto ragazzi, se all'inizio avessimo disattivato prima il cannone con la cura, eccetera, eccetera... Naturalmente, quelli che ci erano venuti a salvare, ce ne potevamo andare con loro, però non sapevamo niente. Ebbene, ragazzi, mi sembra anche ovvio, no? Quindi, noi tra le stelle, lei tra la sabbia, e così via. Bene, ragazzi. Allora, ci siamo finiti anche Subnautica. Devo dire che è stato un titolo veramente molto molto stupendo. Come detto, ci ritorneremo, perché non è ancora finita del tutto. Faremo affondare il nostro sottomarino, il Ciclopis. Vediamo un attimino come farlo affondare, perché sono veramente molto molto curioso di sapere che cosa succede quando, in effetti, andrà ad affondare il Ciclopis. Però, però, sottolineo un'altra cosa. Ci sarà un gameplay extra. Questo gameplay extra è quello di riniziare tutto da capo, magari anche con i cheat, se proprio vogliamo con i cheat, trovare subito la cura per l'enzima della schiusa, trovare, insomma, completamente tutto. Mettere l'enzima della schiusa, curarci e disattivare il cannone ed aspettare che ci chiami l'altra astronave madre per farci venire a recuperare. Sono proprio curioso di vedere come andrà a finire in questo, in quella nuova versione di recupero del nostro personaggio sul pianeta. Ma, detto questo, ragazzi, io concludo qui il video. Spero che vi sia piaciuto e, se è così, vi invito a lasciare un like, commentare, iscrivervi, attivare la campanellina, condividere il video e noi ci becchiamo molto presto in un prossimo gameplay di Subnautica. Mi raccomando, ragazzi, non mancate, perché, come detto, ci saranno questi due piccoli gameplay, forse magari ho due separati oppure uno che faremo entrambe le cose. Ma non lo so, ragazzi, non lo so. Sono completamente onesto. Non so, ragazzi, come andrà a finire questa determinata cosa con Subnautica riguardante sia l'affondamento del Ciclopis, ma anche la nostra salvezza prima che il cannone, naturalmente, abbatti l'altra astronave madre. Detto questo, ragazzi, è un video abbastanza corto. Cercherò, quantomeno, di fare meno tagli e così via e ve lo posterò magari anche con il proseguio degli altri episodi. Ma, comunque, sì, ragazzi, ci siamo visti la fine di Subnautica e, come detto, ragazzi, ritorneremo con queste due piccole cosettine riguardante queste cose qui. Dai, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao a tutti.